Torneo di calcio giovanile Memorial Martino Bianchi, riservato alla categoria di ABB. Tra alcuni minuti avrà inizio l'incontro tra le squadre. Settignanese Virtus Firenze, arbitro della gara il signor Rao di Firenze. Diamo lettura delle formazioni. Settignanese, con il numero 1 Martelluzzi, con il numero 2 Borchini, con il numero 3 Baldini, con il numero 4 Ricci, con il numero 5 Schiamone, con il numero 6 Diciani, con il numero 7 Chiappe, con il numero 8 Morezza, con il numero 9 Massa, con il numero 10 Spinello, con il numero 11 Pini. A disposizione del signor Donati Alessio, con il numero 12 Guarnieri, con il numero 11 Marcacci, con il numero 14 Progetti. Virtus Firenze, con il numero 1 Galantini, con il numero 2 Benedetti, con il numero 3 Chiapà, con il numero 4 Fernandez, con il numero 5 Ciglioni, con il numero 6 Galli, con il numero 7 Fresco, con il numero 8 Fuxa, con il numero 9 Tanini, con il numero 10 Helauri, con il numero 11 Bebber. A disposizione del signor Pasente Nicola, con il numero 11 Santinelli, signore e signori, Tu del 72 Achilles, con il numero 11 añadini, con il numero 11 Bebber. Grazie 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 Grazie